Prima puntata di Discovery Gadget Di cosa si tratta? Semplice L'altro giorno parlavo con i ragazzi della relazione e ci siamo chiesti Perché non realizzare una pubblica dove posso segnalare agli utenti quegli oggettini che hanno bisogno non più di una recensione ma più che altro di una segnalazione Dunque, dunque, dunque pensa un nome, pensa un altro nome e alla fine Discovery Gadget Semplicemente con il tempo che vi durerete a questo banchetto perché, per lo meno l'introduzione di ogni video vi mostrerò gli oggetti che andremo a esaminare ogni puntata di Discovery Gadget Naturalmente non avremo i remi infatti il formato di questa nostra pubblica sarà molto breve, veloce e soprattutto d'impatto Lo scopo sarà molto semplice presentarvi le caratteristiche di ogni prodotto e poi, qualora foste interessati troverete nel link in descrizione qui sotto l'acquisto di ogni singolo gadget Sì, per adesso basta, basta, basta SIGLA! La X-TORM Powerbank Connect 5000 è sicuramente l'oggetto più bello tra i trigger che deve vedere oggi La battiglia interna è sufficiente a caricare uno smartphone per più di due volte soprattutto se disponete di un iPhone Grazie al cavo con connettore micro USB e lightning incorporati disponete sempre di un cavetto per caricare tutti i dispositivi mobile Inoltre, grazie al LED di indicazione potrete visualizzare facilmente lo stato della carica della batteria Per avviare o arrestare la carica vi basterà semplicemente premere il pulsante di accensione o spegnimento Caratteristiche dei miei di note della X-TORM Powerbank Connect 5000 sono sicuramente l'alta efficienza l'auto power management la ricarica veloce batteria di classe A protezione da sovraccarico e controllo della temperatura Grazie al suo design piatto e compatto la Powerbank Connect 5000 è molto pratica da portare in borsa o anche in tasca Insomma, una soluzione ideale per l'utilizzo quotidiano o durante un viaggio di lavoro Passiamo ora alla X-TORM Powerbank Limiters 10.000 che ha una caratteristica molto importante waterproof o meglio resistente all'acqua e addirittura impermeabile dotata di una struttura esterna robusta che soddisfa addirittura standard militari grazie alla codifica IP68 questa Powerbank Limiters 10.000 è completamente impenetrabile da acqua e polvere inoltre è resistente alle cadute e può essere utilizzata in condizioni più estreme Insomma, durante un'escursione far cadere il Powerbank sulle rocce o in acqua non costituisce un problema Il Powerbank è dotato anche di una pratica lampada tascabile provvista perfino di funzione SOS Concludiamo con l'X-TORM Wireless Fast Charging Pad Questo charging pad è molto semplice da utilizzare è sufficiente posizionare sopra il telefono e inizierà subito a caricarsi Le spie a led incorporate indicano quanto il telefono è in carica Inoltre, udite udite, grazie all'uscita da 10W questo processo di ricarica wireless è anche molto rapido Beh ragazzi, per oggi è davvero tutto Alla prossima puntata Ciao